ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario neodef informazioni commerciali titolare si va msoc italiano veterinaria agricola milano spa concessionario si va msoc italiano veterinaria agricola milano spa confezioni neobef confezione da 25 kg formulazione 1 kg uguale vitt a un milione ui vitt d6 320 mila ui vitt e al fatto coferolo 100 mg vitt k menadione sodio bisolfito 20 mg vitt b61 100 mg vitt b6 250 mg vitt pp 4000 mg vitt b61 62 0,8 mg colina 5000 mg ferro carbonato ferroso 200 mg rame sulfato rameico pentahidrato 200 mg manganese ossido manganoso 1500 mg zinco carbonato di zinco 3400 mg cobalto carbonato basico di cobalto monoidrato 20 mg iodio ioduro di potassio 60 mg selenio selenito di sodio 10 mg molibdeno molibdato di sodio 10 mg componenti idrogeno fosfato di calcio fosfato bicalcico carbonato di calcio da rocce calcare macinate carbonato di magnesio bicarbonato di sodio farina di gran turco propionato di calcio dl metionina 5000 mg tenori analitici umidità 1 e 50 per cento calcio 18 per cento fosforo 7 per cento sodio 10 per cento magnesio 3,60 per cento indicazioni mangime minerale per bovini all'ingrasso posologia nella preparazione di un mangime complementare composto indicativamente da soia orzo e coruscami si consiglia di impiegare bovini all'ingrasso 3 kg barra 100 kg di mangime il mangime cosa formato dovrà costituire il 40 per cento circa di ogni chilogrammi della razione giornaliera bisogna comunque assicurare la seguente dose giornaliera per capo bovini all'ingrasso 150 g fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario video esaminato